Siete qui in coda oggi per assistere alla gara che il Lecce giocherà a Vicenza alle 14, la vedrete dal maxi schermo all'interno di Piazza Palio. Cosa vi aspettate da questa giornata? Speriamo sia una bella giornata con tanta soddisfazione e speriamo che il Lecce vinca. Ti ringrazio, vediamo qualche tuo altro amico, chiaramente chi? La signorina qui oggi in Piazza Palio, il Lecce gioca a Vicenza, cosa ti aspetti da questa giornata, da questa gara? Non si può dire per la scaramantia, però si spera bene. Siete venuti con un gruppo di amici, quanti siete? Siamo venuti dopo scuola, siamo 4-5, però forse dopo ciò aggiungono altri. Vi aspettate di festeggiare? Ci aspettiamo sicuramente di chiudere la questione quest'oggi, quindi vincere a Vicenza e quindi festeggiare con tutti i tifosi venerdì prossimo nel nostro meraviglioso stadio. Siamo in attesa perché siamo in ritardo da più di mezz'ora, quindi l'organizzazione da questo punto di vista lascia un po' desiderare onestamente, però siamo tifosi e siamo abituati a soffrire. Forza Lecce. Un pronostico? Beh, una vittoria 1-0.